C'era una volta una rana che si chiamava Maria Carlotta. Questa rana viveva in uno stagno. Era tutta verde. Aveva una lingua rossa, piccola e appiccicosa. Un giorno la rana vide una mosca. «Attenta, piccola mosca! Che ti mangio?» disse la rana. «No, io sono gentile! Non puoi mangiarmi!» espose la mosca. La rana cercò di acchiappare la mosca e paf! La lingua si incolò su una pietra. Arrivò in quel mentre un coccodrillo. «Ci tirerò per la schiena!» propose il coccodrillo. «No, non ho assolutamente bisogno di aiuto!» gridò la rana. Ma il coccodrillo non gli diede retta e tirò Maria Carlotta, prendendola per la schiena. E tirò e tirò la lingua della rana diventò lunga, lunga, lunga e bruscamente si staccò dalla pietra. Da quel giorno le rana hanno la lingua lunga e possono acchiappare le mosca. Comenus Regio 2011-2013 porté par la Région Autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la Mairie du Bigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.